Vorrei rubare quello che mi apparteneva, sì vorrei rubarla e non sconderla in una cassa di patate, di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asino, ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una cipetta urla, vedo il corno, non ho iniziato il mio lavoro, ora. Mona Lisa, 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 Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. La scuola è una grande cosa e soprattutto se ci insegnano da mai, il tuo lavoro è del passato, però è il peccato che tu non li puoi vedere, né di tocere. E la cultura mi sorride, tra le ombre le tende di venuto, e io sto torturando la tela con il rosoglio e con le unghie, con le unghie. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa, ora! Sotto sta burlando, e certamente mi dicono di uscire. Il francese non lo ha perduto Per questo me ne sto ancora un po' qui a pensare A pensare Il custode si lamenta Probabilmente vuole un'altra botta in testa Ora, Mona Lisa 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.